Elura ragaz ma vala, sono che mo in della camera bianco rossa, bentornati in un nuovo video, finalmente dopo due settimane di assenza stavo aspettando anche che ci fossero notizie un po' più scottanti dal punto di vista delle novità relative al lontano, alle lontane possibilità del ripescaggio, della riammissione che ormai è praticamente infattibile ma io lo sapevo già da tempo e sinceramente non ci ho mai creduto più di tanto, era una possibilità che mi stuzzicava sicuramente però ho sempre pensato fin da un minuto dopo essere retrocesso che bisognasse subito puntare ad una squadra che potesse vincere il campionato di Serie D e questo pensiero non me lo sono tolto dalla testa fino ad adesso, quindi siamo in questa situazione, ci sono stati diversi ricorsi il casino dell'Ecco, della Regina, il ripescaggio del Bresci in Serie B, il discorso del Siena, Pordenone, il Mantua che è stato ripescato in C insomma una serie di eventi che però non ci hanno alla fine intaccati e quindi si ripartirà dai direttanti sono stati finalmente presentati Maccarone come allenatore e Sestu come DS due diciamo semi esordienti come allenatori come DS che sicuramente sono una scommessa per quella che è la nostra realtà è una realtà che punta subito a ritornare ai professionisti, l'ha detto Polenghi che punta a costruire una corazzata, ci sono stati diversi nomi, si è parlato di Recino, di Convito che poi pare essere sfumato si parla ancora di D'Agostino, della Paganese, si parla di Variale, si parlano di Maianti, di Bacchini si parlano di diversi nomi e molti sembrano essere delle certezze per quella che è la categoria e io personalmente rimango fiducioso, sapete come sono fatto, sono un ottimista di natura e voglio credere che l'ossatura della squadra sarà molto buona e soprattutto buona per vincere il campionato perché non giriamoci attorno, arrivare secondi o comunque mancare la promozione sarebbe uno smacco perché abbiamo visto anche che anche la vincente dei playoff di Serie D non è sicuro che poi venga venga poi ammessa la Serie C quindi bisognerà costruire una corazzata Maccarone è un allenatore che da quella che è la sua filosofia di gioco mi piace molto, mi affascina sapete il mio tifo per la Fiorentina e questo Maccarone un po' la italiano con questo 4-3-3 con i terzini che spingono, con gli attaccanti che lasciano gli spazi per gli inserimenti delle mezzale sono tutte cose che mi ricordano molto la Fiorentina ed è sicuramente un modo di gioco e quindi una formazione messa in campo opposta per segnare il più possibile come è fatto poi il Givi Borgo l'anno scorso allenato proprio da Maccarone per contro c'è il discorso della difesa e anche il discorso degli under che dovranno essere diversi ogni partita e una difesa che esponendosi ad un gioco tanto offensivo chiaramente si esporrà poi anche alle ripartenze avversarie e quindi in questo ci vorranno dei giocatori che soprattutto dei centrali di difesa che sappiano fare il loro lavoro e dei terzini che poi ritornino facciano le diagonali come si deve quindi è sicuramente una filosofia di gioco che mi piace molto è una squadra tutta da scoprire so che ci sono diversi tifosi che hanno dei dubbi io non è che sia esente da dubbi però voglio essere fiducioso nella società, nel lavoro che sta facendo ho visto che anche dal punto di vista dell'informazione e della comunicazione mi pare che ci sia un po' più di fermento rispetto a prima che sembrava che ogni volta per aprire una notizia bisognava andarla a scoprire su chissà quali siti improbabili e invece mi pare che adesso ci sia un po' più di trasparenza anche dal punto di vista della comunicazione via social e sulle testate giornalistiche i giocatori sui quali la società sta puntando però potranno essere ufficializzati solamente dal 10 luglio quindi da lunedì molti avevano dei dubbi perché dicevano ma come mai ancora non ci si sta muovendo i nomi potranno, per legge la serie D può ufficializzare i nomi degli acquisti solamente dal 10 luglio in poi e l'allestimento della rosa sicuramente sarà un processo non semplice e soprattutto ci vorrà del tempo, noi abbiamo avuto la magagna del ripescaggio e della riammissione che ci ha tolto un po' di tempo quindi sicuramente anche i tempi del raduno e tutto si slitteranno un po' più in avanti quindi sarà una corsa contro il tempo ma io credo nella società, credo nell'allenatore, nel DS e nella serietà di questa realtà che sta nascendo questa cordata di imprenditori che stanno facendo il possibile per far risorgere il nostro piace da quelli che sono stati gli ultimi anni di mala gestione e di tirare a campare fatemi sapere la vostra impressione qua sotto nei commenti ditemi la vostra, mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al canale insomma la solita trafilla già la conoscete vi mando un caro saluto, ci vediamo presto e sempre forza piace grazie 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 grazie